Federica Pezzolla, io a queste le conosco, io sono certe pure, beh, Fabrizio, come no, come no che l'ostetrica pali in quella presa di acqua, che gli è rimasta, sta lingua che non si stava mai ferma, due minuti, che pareva nemicottero. La ficcava dappertutto, che pareva che andava a portare spesso un cane proprio. Poi, poi vanno a vedere allo zio, quella creatura contenta, subassava con tutta quella bava che poi per poveretto tanto valeva a chiedere un cavettone. Che papure con l'amici dello zio era tanto affettuoso, mi ricordo con un uomo, Gianni, Gianni, un signore tanto distinto a o mai, a mani volte. Sempre con queste caciotte con la faccia di riduce, che poi a me si mangia un mal come piace, che poi Fabrizio, vizio. Io, o io mica l'avevo capito, che era un ragazzino, pensavo, pure la pupa, così piccola, già la prendono per culo, per amore. Che poi me ne era accorta, che era tanto sensibile, che poi a così era una cosa formidabile proprio. Sì, una volta, una volta mi era accaduto uno straccio a o due minuti, ma ridato che pareva un kimono.